Per non tremare quando la terra trema, è il titolo del convegno sulla sicurezza sismica del patrimonio edilizio che si terrà nell'intera giornata di mercoledì prossimo, 24 marzo, dalle 9.30 alla Camera di Commercio di Teramo. Temo ovviamente molto sensibile per la cittadinanza, specie negli ultimi tempi. L'organizzazione è curata dall'ente camerale in collaborazione con il Comitato per la promozione dell'imprenditoria femminile e l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Teramo. In mattinata si alterneranno ingegneri e docenti universitari, i quali illustreranno le nuove tecnologie antisismiche, i materiali e presenteranno alcuni casi di studio. Un tema che coinvolge l'incomunità e la sicurezza delle persone, che è un aspetto che è stato forse un po' trascurato negli ultimi tempi ma che ora diventa di grande attualità. Quindi fare una giornata di formazione per i tecnici, per le imprese edili, per tutti gli operatori del settore, ma anche una giornata di informazione ai cittadini sui comportamenti da tenere e anche e soprattutto sull'oculatezza da tenere nella scelta delle abitazioni. Una recente inchiesta portata avanti da Union Camera Italia ha sottolineato come le donne nelle loro imprese portino avanti con grande convinzione il discorso della qualità e della sicurezza, oltre che quello dell'innovazione tecnologica. Ecco perché ci piaceva proporre alla Camera l'Ordine degli Ingegneri questa tematica al fine di creare imprenditrici, imprenditori sempre più formati. Quindi non sarà un convegno soltanto per i tecnici ma è aperto a tutti? Sì, diciamo la mattina è essenzialmente rivolto ai tecnici ma il pomeriggio è rivolto alla società civile. Vogliamo che si partecipi perché con un linguaggio semplice fatto da tecnici trasmetteremo poi dei connotati, degli elementi per far capire qual è la componente, il comportamento essenziale di un edificio.